Azione Punto Rosso vuole diventare un riferimento del riformismo di sinistra entrando nei temi cardine dell'azione politica, scuola, lavoro, sviluppo. Noi ci impegneremo sui problemi più vari con una voce libera, un'associazione svincolata dai vincoli istituzionali e quindi può essere liberamente e liberamente può affrontare le questioni più spinose che attanagliano la società e la nostra regione, dalla scuola alla sanità, ai trasporti, alla formazione, alle istruzioni, ai diritti sociali, ai diritti civili. Un'azione di ascolto è proposta che parte dal basso e che vuole entrare a pieno titolo anche nelle decisioni che si stanno per prendere per le prossime amministrative. Noi avremo uno sguardo ordo diretto per le prossime amministrative, cercheremo di dire la nostra sulla scelta degli uomini che guideranno gli enti locali con particolare attenzione sulle grandi città, soprattutto della provincia di Salerno. Salerno e Battivaglia innanzitutto? Su Salerno abbiamo le idee chiare, Battivaglia è ancora in una fase di costruzione, noi pensiamo che il candidato migliore sia Enzo Napoli, se dovesse partecipare alle primarie lo sosterremo, altrimenti saremo già da subito al suo fianco.